In questa pillola di saggezza, abbiamo visto il suo studio che si trova in via Plinio 1 a Milano, uno studio molto bello, e si intraveggeva già quel macchinario che tutto avanzo, ci sono macchinari avanzati, proprio gli ultimi usciti. La tecnologia fa grossi progressi continuamente. Pensi che fino a dieci anni fa esisteva un laser, un solo tipo di laser con cui si faceva tutto. Adesso invece esistono almeno 7-8 tipi di laser diversi, e ogni laser riesce a fare qualcosa di mirato. C'è il laser per eliminare i capillari, c'è il laser per eliminare le macchie, quello per eliminare i tatuaggi, c'è quello per stimolare la pelle a rifarsi. Quindi la tecnologia ci è venuta in grande aiuto, è sempre di più, in maniera sempre più sofisticata, e ci permette di ottenere dei risultati distruggendo il meno possibile la pelle. E quindi anche questo vuol dire dare un risultato estremamente naturale. Esatto, quindi questi macchinari nelle mani d'oro del professor Di Pietro è il massimo. E allora, parlando... Sono macchine sofisticate, quindi sicuramente occorre esperienza, è un po' come una macchina da corsa. Ecco, una macchina da corsa può essere vincente, ma è determinante il pilota. Bravo, ecco, non aggiungo altro, anzi aggiungo un altro filmato, parlando di laser, abbiamo anche quello che riguarda il laser frazionale. Vediamo. Una terapia molto efficace di dermatologia plastica, quindi tutto ciò che può essere fatto senza ricorrere al bisturi, è rappresentato dal laser frazionale. È un laser nuovissimo che riesce ad eliminare gli strati più superficiali della nostra pelle. È molto indicato quando vogliamo ridare luminosità al nostro viso o vogliamo eliminare le macchie più superficiali. Il laser frazionale manda degli impulsi puntiformi che arrivano a decimi di millimetro in profondità e permettono di ricambiare più velocemente lo strato corneo, quindi la parte più superficiale della nostra pelle. Si ricrea una epidermide più giovane, più compatta, di conseguenza è più luminosa perché riflette meglio la luce e più uniforme nel colore. Quindi un ringiovanimento dell'acute, quello che gli americani chiamano refreshing della pelle, per una maggiore freschezza. Il trattamento si esegue con una o due sedute a distanza di 15-20 giorni l'una dall'altra. Si ha un veloce, pressoché immediato rinnovamento della pelle e permette di poter ritornare nella vita normale senza dover restare in casa per giorni nascosti perché la pelle è arrossata. Quindi trattamento d'avanguardia con degli ottimi risultati, veloci ed estremamente naturali. Bene, ancora complimenti. Infatti il consiglio è quello di affidarsi appunto alle mani del professor Antonino Di Pietro perché stiamo parlando della pelle, lo strumento credo più, uno dei più preziosi che dobbiamo tutelare a tutti i costi. Poi infatti a venire da lei, ma poi per tutte le persone che vogliono qualche consiglio a portata di mano, ecco, anche grazie per questo libro, perché ho sentito anche nei blog, così sai quando commentano per la tua pelle, che dice mi è piaciuto molto perché non parla solo in modo medicalese, e quindi in modo molto semplice dà questi consigli veramente utili per tutti, uomini e donne. Quindi in bocca al lupo, anche se non ha bisogno, anche io l'ho letto e devo dire è ottimo. Soprattutto pratici, quindi quando si è in casa la domenica succede qualcosa sulla pelle, che cosa fare? E non abbiamo farmaci a disposizione, ecco lì può essere un primo pronto soccorso pratico, spero utile. È vero, lo è, lo è tanto. Bene, grazie, complimenti. Spero di averla qui presso, intanto grazie per essere stato a Telemattina, grazie al dottore Antonino Di Pietro. A presto. Pubblicità per noi.